I cittadini di Taranto si domandano ma Taranto è mai stata amministrata? Il sindaco di Taranto era Rinaldo Melucci ma evidentemente le sue tracce si sono perse durante il suo mandato amministrativo e sì perché quando in città avvengono gli scempi e l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, degli uffici tecnici non intervengono, beh c'è da dire che evidentemente la città è non amministrata. Guardate mi trovo qui in via Garibaldi in una arteria centralissima appunto del borgo antico, qui sono stati fatti dei lavori da parte di utenze, da parte della ditta, è stato appunto aperto, tagliato il manto stradale e guardate come è stato rappezzato, rappezzato in una maniera pedestre, in una maniera schifosa, sottolineo schifosa, gettato un po' di cemento, gettato un po' di asfalto e vedete dopo poco cosa è accaduto, cosa è accaduto? Mi domando e questa situazione sta qui da lunga pezza, da lungo tempo, da quando Melucci era ancora sindaco, quindi guardate cosa si è creato? Praticamente lavori eseguiti, rattoppati alla bella e meglio, lavori fatti con i piedi e quindi chiaramente basta un po' d'acqua e si sfalda tutto appunto il manto stradale. Zona pericolosissima, qui addirittura proprio c'è un innalzamento, si crea quasi un gioco di dossi e di cunette, appunto si solleva la pavimentazione, il manto stradale e qui lo scempio, anche qui dossi e cunette, un pericolo anche per la corsia preferenziale perché qui passano i bus, qui addirittura proprio è, vedete il manto stradale che cede, che sprofonda, qui addirittura un altro si rigonfia, si solleva. Vi sto mostrando le pietre, cioè le parti di questo asfalto che si è spaccato e abbiamo come dire proprio una frammentazione per cui diventa anche pericoloso perché poi soprattutto con la pioggia le macchine, i veicoli passano e queste pietre davvero schizzano come proiettili, come saette. Parliamo di, vedete, pezzi di asfalto davvero consistenti, grossi. Vi sono evidenti responsabilità dell'ufficio lavori pubblici perché, scusate, nel momento in cui si fa un lavoro sul patrimonio del comune di Taranto, perché le strade sono patrimonio del comune di Taranto, tu devi andare a fare i controlli e devi andare a prendere per le orecchie le ditte, devi prendere la testa dei responsabili delle ditte e, lo dico metaforicamente, la devi sbattere qui sopra perché non è possibile che le ditte possano fare scempio del territorio e nessuno interviene. Questi controlli da parte degli uffici pubblici sono stati fatti? E se sì, come sono stati fatti? E quali esiti hanno avuto? Evidentemente esiti nulli perché il manto stradale è stato sfregiato, rimane sfregiato, le ditte se ne sono andate, quindi l'azione amministrativa del comune di Taranto di difesa, di tutela del proprio patrimonio è stata pressoché nulla. Questa è l'amministrazione Menucci. Con me, sindaco, la musica cambia. Uno, perché girerò la città e non rimarrò chiuso in palazzo di città come ha fatto Menucci. Due, perché molti ma molti funzionari, i tecnici, dovranno muoversi, darsi da fare, girare e ispezionare il territorio perché non è possibile che dobbiamo trovarci sfregiati in casa nostra. Ora basta, sarò un sindaco di strada, sì, nel senso più nobile del termine, di un sindaco che controlla i lavori pubblici. Di questo ha bisogno Taranto. È un sindaco che stimolerà molto ma molto gli uffici tecnici dei lavori pubblici. Lo ripeto, un impegno che da giugno si tradurrà in realtà.